Il canale Malamoco Marghera è stato portato alla profondità di 11 metri. La Capitaneria di Porto ha concesso quindi l'ordinanza per il passaggio delle navi con pescaggio di 34 piedi. Eravamo partiti con l'ordinanza che limitava il traffico alle navi con pescaggio 30 piedi. Recuperato quindi 4 piedi, 4 piedi vuol dire oltre 3 milioni di metri cubi di sedimenti asportati. Ecco abbiamo finito questa prima parte, abbiamo portato i sedimenti meno inquinati, adesso ci aspetta tutta l'altra parte, cioè portare a questa stessa profondità i canali interni dove troviamo i sedimenti maggiormente inquinati e per i quali stiamo lavorando, stiamo attrezzando i siti di deposito, sia l'ampliamento del malossali per i sedimenti oltre C non pericolosi, uno stoccaggio in area 20 da ettari per i sedimenti oltre C anche pericolosi. Ecco da qui poi partirà la seconda parte per rimuovere tutti i sedimenti, quelli più inquinati, quelli maggiormente pericolosi in modo da riportare tutti i canali almeno agli 11 metri, salvo non arrivare ai 12 metri che è la profondità del piano regolatore portuale. Grazie